Durante una sera in cui, seduti nella confortevole atmosfera del suo salotto, stavamo sorseggiando un bicchiere di sherry, il dottor Martin S. Elius, tra le molte cose che conosceva e delle quali era prodigo nei miei confronti, mi narrò questo strano caso che ora vi presenterò. Stando a quanto sinora è in mie mani, penso che i tomi nei quali saranno compresi tutti gli scritti e i racconti del dottore S. Elius non potranno essere inferiori a nove o dieci, e questo che segue lo includerò per certo nel sesto volume. Vi accorgerete che questo racconto è veramente sensazionale, e anche se tutti gli altri del dottore S. Elius sono estremamente avvincenti, questo ha un'efficacia narrativa che non è dato di riscontrare nelle altre storie. Nel sud dell'Irlanda, ai confini della contea di Limerick, vi è una piccola zona, lunga due o tre miglia, assai interessante per il fatto di essere uno dei pochi luoghi in questo paese, in cui trovano ancora asilo alcuni residui dell'antica foresta primeva. Hanno poco o niente della maestosità delle foreste americane, poiché le asce hanno abbattuto gli alberi più vecchi e imponenti, ma nel piccolo bosco che è sopravvissuto esistono ancora tutte le selvagge e gradevoli peculiarità della natura. Una struttura spontanea, irregolare, i panorami, le rinfrescanti radure, dove tra felci ondeggianti occheggiano le rocce grigie, i fusti argentei delle annose betulle e i tronchi nodosi delle venerabili querce, i rami grotteschi, sui quali non osa alzarsi nessun falchetto implacabile, la verde e soffice distesa dei prati, la scacchiera di ombre e luci, i lussureggianti cespugli selvatici, i muschi ed i licheni, tutti sono ugualmente incantevoli nella freschezza primaverile, oppure nella tristezza e nel disfacimento dell'autunno. E la loro bellezza è di quel tipo che riempie il cuore di gioia e fa appello alle emozioni con un potere che appartiene soltanto alla natura. Questo bosco superstite risale dalla base fino al crinale di una lunga processione di colline irregolari. Forse in tempi lontani era soltanto l'estrema propaggine di una sterminata foresta che si estendeva sull'intera pianura sottostante. Ma ora, ahimè, dove siamo precipitati? Dove ci ha trascinati la marea della civilizzazione? Essa è passata sopra una terra che non era pronta ad accoglierla ed ha lasciato il vuoto dietro di sé. Noi abbiamo perduto le nostre foreste, ma i nostri dilapidatori rimangono. Abbiamo distrutto tutto ciò che è bello e pittoresco, mentre abbiamo conservato tutto quello che la barbarie ha di più ributtante. Tra le brume spiraleggianti di questo bosco corre una forra, una gola profonda in cui l'immobilità dello scenario è rotta dal cupo borbottio di un ruscello montano, che tuttavia nella stagione invernale si gonfia fino a diventare un torrente rapido e impetuoso. C'è un punto in cui la forra cala a picco in un'angosciosa strettoia, le cui due pareti precipitano per un centinaio di metri, quasi perfettamente verticali. Gli alberi selvatici che hanno piantato le loro radici nelle spaccature della roccia si sono talmente intersecati e avvinghiati tra loro che a stento si può scorgere il ruscello che scintilla tra la schiuma laggiù, come esultando tra il silenzio e la solitudine che lo circondano. Quel luogo non era stato scelto a caso, ma a causa delle sue eccezionali difese naturali per erigervi una rocca, una massiccia torre quadrata, un lato della quale si innalzava prolungando senza soluzione di continuità lo strapiombo. In origine l'unico modo di entrarvi era lo stretto portale, proprio sul lato che guardava il precipizio. Si apriva su una lingua di roccia che formava un precario sentiero, prudentemente intersecato tuttavia da un profondo fossato, intagliato nella durissima pietra con grande fatica. Cosicché, nel suo stato originario e prima dell'avvento dell'artiglieria, si poteva affermare senza presunzione che quella rocca era praticamente inespugnabile. Con l'ammorbidirsi dei costumi e l'accresciuto senso di sicurezza, i successivi proprietari avevano tuttavia tentato nel corso degli anni, se non di ingentilire, quantomeno di ampliare la fortezza. E verso la metà del secolo scorso, quando il castello fu abitato per l'ultima volta, l'originaria torre quadrata formava soltanto una piccola parte dell'edificio complessivo. Il castello e un ampio tratto del torrente circostante appartenevano da tempo immemorabile ad una famiglia che qui chiameremo col nome di Ardag. A causa dell'associazione di idee che in Irlanda ha quasi sempre contraddistinto degli scenari rimasti a lungo mutati, l'esercizio di una rigida autorità feudale e la rude ospitalità dei tempi antichi, questo edificio è diventato il protagonista di molte straordinarie e cupe leggende. Poiché ho conosciuto una persona che è stata testimone oculare di ciò che accadde, ho potuto risalire alle origini di una di esse. Eppure è difficile dire se gli avvenimenti che sto per narrare appaiano più strani e improbabili proprio perché visti attraverso la lente distorta della leggenda o nella spaventevole oscurità dell'incertezza che circonda la realtà. La leggenda narra che, il secolo scorso, Sir Robert Ardag, ultimo erede della famiglia, andò all'estero e prestò servizio in diversi eserciti stranieri. Dopo aver conquistato considerevoli onori ed emolumenti, si sistemò nel castello di Ardag, l'edificio che proprio ora ci siamo sforzati di descrivere. La gente di campagna lo definiva un uomo cupo, sempre imbronciato, riservato e collerico. A giudicare dalla completa solitudine della sua vita, non doveva essere i rapporti cordiali con il resto della sua famiglia. L'unica occasione in cui interrompeva la solitaria monotonia della sua esistenza era la stagione delle corse e il periodo immediatamente successivo. In tali occasioni era tra i più affaccendati intorno alla pista, sempre pronto alle più grosse scommesse. Non conosceva esitazioni e ne usciva invariabilmente vincitore. Sir Robert, tuttavia, era assai noto come uomo d'onore e la sua era un'antica e specchiata nobiltà perché qualcuno osasse sospettare di una condotta sleale. E per di più un soldato, nonché un uomo intrepido e altero. Nessuno si azzardava a fare continuazioni, le cui conseguenze sarebbero ricadute con ogni probabilità soltanto su colui che le avesse fatte. Tuttavia, i pettegolezzi non erano completamente inesistenti. Si faceva notare, infatti, che Sir Robert si presentava sempre alle corse, l'unico luogo pubblico da lui frequentato in compagnia di un personaggio dallo strano aspetto, che non compariva mai tra la gente in nessun'altra circostanza. Quest'uomo, si sottolineava, legato a Sir Robert da un rapporto di natura imprecisata, era l'unica persona alla quale egli rivolgesse la parola anche quando non era strettamente necessario. E si osservava pure che, mentre Sir Robert non aveva con gli altri nobili di campagna altri contatti, se non quelli relativi alle questioni sportive, con questo individuo, invece, conversava assai di frequente, accalorandosi. Si racconta anche che, ad aumentare la curiosità per questa inesplicabile ed esclusiva preferenza, lo straniero ostentava delle sgradevoli particolarità, sia come persona che nel modo di vestire. La leggenda non dice in che cosa consistessero, ma queste, insieme alle abitudini riservate di Sir Robert e dalla sua straordinaria fortuna, un successo che si era convinti fosse il frutto dei suggerimenti e dei consigli dello sconosciuto, davano credito alla convinzione che ci fosse qualcosa di strano nell'aria e alla supposizione che Sir Robert fosse implicato in qualche terribile gioco d'azzardo. E infine, per farla breve, che quel suo bizzarro compagno altri non fosse che il diavolo in persona. Gli anni, tuttavia, trascorrevano tranquilli e niente di nuovo venne a turbare le abitudini del castello di Ardagh, eccettuato il fatto che Sir Robert si separò dal suo strano compagno. Ma, poiché nessuno avrebbe potuto dire di dove fosse venuto, così nessuno poter rivelare dove fosse andato. Le abitudini di Sir Robert, tuttavia, non subirono per questo alcun mutamento. Egli continuò a frequentare regolarmente le corse, senza mescolarsi in alcun modo alla giovialità della piccola nobiltà locale, ripiombando subito dopo nella sua monotona volontaria prigionia. Correva voce che avesse accumulato enormi somme di denaro e, poiché le sue scommesse erano molto cospicue ed avevano costantemente successo, doveva proprio essere vero. Tuttavia, Sir Robert non consentì mai che la crescersi delle sue ricchezze influenzasse in qualche modo la sua ospitalità o il governo della sua dimora. Non acquistò altri terreni, né ampliò ulteriormente il suo castello. Il suo modo di godersi il denaro doveva essere quello di un avaro, dato che consisteva semplicemente nel piacere di accarezzare il suo oro o di parlarne e, nella costante consapevolezza, di possederlo. Gli umori di Sir Robert, lungi dal migliorare, divennero sempre più lugubri e malinconici. A volte spinse il compiacimento per queste sue tendenze morbose a sfiorare molto da vicino la follia. Durante tali parossismi non mangiava, né beveva e neppure dormiva. Insisteva invece per essere lasciato completamente solo, non ammettendo la presenza neppure dei suoi più fidati servitori. E spesso si udiva la sua voce che rivolgeva ardenti suppliche, oppure si innalzava in violentissimi alterchi con qualche visitatore sconosciuto. Altre volte Sir Robert camminava su e giù di seguito per ore, in un locale rivestito di pannelli di quercia, la sua stanza preferita, con passi precipitosi, gesticolando furiosamente, come travolto da un'innaturale eccitazione, a causa di qualche imprevista e spaventevole angoscia. Questi attacchi di apparente follia erano così terribili che, quando si scatenavano, anche i più vecchi e fedeli servitori non osavano andargli vicino. Di conseguenza queste sue ore di agonia procedevano senza interruzione e le misteriose cause della sua sofferenza sembravano destinate a restare nascoste per sempre. Uno di questi attacchi si manifestò per un tempo insolitamente lungo. La durata abituale, due interi giorni, era ormai abbondantemente superata e il servitore, che di solito prestava le sue sollecite cure a Sir Robert dopo questi parossismi, dopo aver atteso in vano il ben noto squillo del campanello del suo padrone, cadde in preda a una forte preoccupazione. Temeva infatti che Sir Robert fosse morto di esaurimento, oppure che avesse posto fine alla sua esistenza, al colmo della sua depressione. Il tempo passò e questi timori crebbero d'intensità, al punto che, dopo aver sollecitato alcuni dei suoi compagni ad accompagnarlo, decise di recarsi da solo a vedere se fosse accaduta qualche disgrazia al padrone del castello. Percorse numerosi corridoi che portavano dalle ali più recenti ai quartieri più antichi del castello e quando giunse al vetusto cortile, il completo silenzio di quell'ora, poiché era notte inoltrata, la consapevolezza di quanto stava per compiere, una sensazione di remota lontananza da qualunque cosa costituisse una compagnia umana, ma ancora il più vivido ma indefinito presentimento di qualcosa di orribile, lo sopraffecero con un peso così opprimente che si arrestò esitando, disperatamente incerto se dovesse procedere oppure no. Tuttavia, una genuina preoccupazione per il destino del suo padrone, per il quale provava quel particolare attaccamento che, in forza della consuetudine, non di rado si crea nei confronti di individui in se stessi per nulla piacevoli e, inoltre, una sia pure inespressa riluttanza ad esporre la sua debolezza alle beffe dei suoi compagni, riuscirono, unite insieme, a travolgere ogni sua ritrosia. Aveva però appena salito il primo gradino della scalinata che portava alla stanza del suo padrone quando la sua attenzione fu attirata da un debole ma distinto bussare alla porta dell'atrio. Non del tutto dispiaciuto di questo diversivo che ritardava la sua spedizione, appoggiò la candela su un blocco di pietra ai piedi della scalinata e si avvicinò alla porta, ancora col dubbio che fossero state le sue orecchie a ingannarlo. Un dubbio perfettamente giustificato dalla circostanza che quell'atrio non era stato più usato da almeno 50 anni come ingresso al castello. Inoltre, la posizione di quella porta che già ci siamo sforzati di descrivere, spalancandosi su una strettissima sporgenza della roccia protesa sullo strapiombo, la rendeva in qualunque momento, ma soprattutto di notte, estremamente pericolosa per chi volesse entrare. Quella sottile sporgenza rocciosa, l'unica via di accesso alla porta, era incisa, come già spiegato, da un profondo fossato e la passatoia di legno che lo scavalcava era da tempo scomparsa, o perché completamente marcita o per altre ragioni, per cui sembrava quanto meno altamente improbabile che qualcuno di chiunque si trattasse fosse riuscito ad attraversare con sicurezza il passaggio fino a raggiungere la porta, e soprattutto in una notte come quella in cui le tenebre sembravano stranamente più fitte. Perciò il vecchio tese l'orecchio e ascoltò per accertarsi che ai primi colpi ne fossero seguiti degli altri. Non dovette aspettare a lungo, l'identico bussare, debole ma singolarmente distinto, si ripetè. Era così debole che pareva prodotto da uno strumento non più duro o massiccio di una mano. Eppure, nonostante il rilevante spessore della porta, era così distinto che era impossibile equivocare su di esso. Si ripetè una terza volta senza che la sua intensità aumentasse, e il vecchio, obbedendo a un impulso che, fino all'ora della sua morte, non riuscì mai a spiegare, cominciò a rimuovere una dopo l'altra le tre grandi sbarre di quercia che garantivano l'inaccessibilità del passaggio. Il tempo e l'umidità avevano profondamente corroso il metallo della serratura, così essa offrì ben poca resistenza. Sia pure con qualche sforzo, ma il vecchio si convinse che qualcuno aiutava. I suoi sforzi dall'esterno, il servitore riuscì a spalancare il massiccio battente, e una figura bassa e atticciata, apparentemente quella di un uomo avvolto in un grande mantello nero, entrò nell'atrio. Il servitore non riuscì a distinguere molto chiaramente il visitatore. La foggia del suo abito sembrava quella di uno straniero, e il lembo del suo ampio mantello era gettato sopra una spalla. L'individuo indossava un cappello di feltro con una tesa molto allungata, da sotto la quale usciva quella che sembrava una massa di lunghi capelli color nero fuligine. I suoi piedi poi erano infilati in un paio di massicci stivali da equitazione. Questi, dunque, furono i pochi particolari che il servitore ebbe il tempo e la luce sufficienti ad osservare. Lo straniero gli ingiunse di informare immediatamente il suo padrone che era giunto l'amico con il quale aveva un appuntamento per sistemare alcuni affari con lui. Il servitore esitò, ma un movimento appena accennato del misterioso visitatore, come per impadronirsi della candela, lo fece decidere. Così, afferrata la candela, salì rapidamente la scalinata del castello, lasciando il suo ospite nell'atrio. Entrando nel corridoio sul quale si apriva la stanza rivestita di quercia, fu sorpreso nel constatare che quella porta era parzialmente aperta e rivelava l'interno della stanza illuminata. Si fermò un attimo e, non udendo alcun suono, guardò dentro e vide Sir Robert con la testa e la parte superiore del corpo reclinate su un tavolo, sopra il quale ardeva una lampada. Le braccia protese ambedue in avanti erano perfettamente immobili. Sembrava che Sir Robert, non appena si era seduto al tavolo, fosse crollato in avanti, morto, oppure privo di sensi. Non si sentiva neppure l'alitare di un respiro. Il silenzio era completo, fatta eccezione per il secco ticchettio di un orologio che giaceva accanto alla lampada. Il servitore tossì due o tre volte, ma senza risultato. I suoi timori adesso erano quasi una certezza e si era avvicinato al tavolo sul quale era accasciato il suo padrone per assicurarsi che non fosse morto. Quando Sir Robert alzò la testa e, appoggiandosi allo schienale della sedia, fissò con occhi incerti e allucinati il vecchio. Qualche istante dopo si labò penosamente, quasi avesse paura della risposta. «In nome di Dio, che cosa ci fai qui?» «Signore», disse il servo, «quì sotto c'è uno strano gentiluomo che vuole vederla». A questo annuncio, balzando in piedi e gesticolando, Sir Robert lanciò un grido così carico di terrore e di disperazione da risultare quasi insostenibile per un orecchio umano. Anche quando il grido si spense, alla terrorizzata immaginazione del vecchio servitore, parve che continuasse a riverberare attraverso i corridoi deserti, in scrosci successivi di arcane risate. Qualche istante dopo, Sir Robert disse ancora, «Non puoi mandarlo via, perché è venuto così presto? Oddio, fa che mi lasci un'altra ora, un'altra ora soltanto! Non è una lunga attesa! Non perderà nulla in quest'ora! Nulla, nulla, nulla! Diggielo, digli qualunque cosa!» Il servitore tornò da basso. Neppure si accorse di aver ridisceso la scala finché non si ritrovò nell'atrio. Il visitatore era rimasto esattamente dove l'aveva lasciato. Gli comunicò il messaggio del suo padrone con tutta la coerenza che gli fu possibile. Lo straniero rispose in tono petulante, «Se Sir Robert non vuole scendere, allora dovrò salire io da lui!» Il vecchio tornò precipitosamente di sopra e con una viva sorpresa trovò il padrone molto più tranquillo. Questi ascoltò il messaggio e, nonostante le gocce di freddo sudore che gli imperlavano la fronte più velocemente di quanto riuscisse ad asciugarle, i suoi modi non avevano più quella terribile agitazione che li aveva contrassegnati poco prima. Si alzò faticosamente, poi lanciando un ultimo sguardo di agonia dietro di sé uscì nel corridoio e qui fece segno al servitore di non seguirlo. Il vecchio però si sporse ugualmente dalla cima della scala, da dove poteva vedere abbastanza chiaramente l'atrio, a stento illuminato dalla candela che vi aveva lasciato. Vide il suo padrone barcollare più che camminare nel discendere la scala, mentre le sue mani sembravano quasi avvinghiarsi alla ringhiera. Sir Robert proseguì dando l'impressione di essere sul punto di cadere ad ogni istante. Il nero visitatore si fece avanti come per andargli incontro e, passando accanto alla candela, la spense. Il servitore non vide più nulla, ma udì il suono di una lotta, il violento esplodere a brevi intervalli di una spaventevole, silenziosa energia. Tuttavia fu ben presto evidente che i due si erano avvicinati alla porta d'ingresso, poiché due o tre volte risuonò il tonfo dei corpi sopra il solido legno di quercia, e anche i piedi dei contendenti, trascinandosi qua e là sul pavimento, la colpirono più volte. Dopo una breve pausa la porta si spalancò con tale violenza che il battente colpì con uno schianto il muro dell'atrio. Fuori il buio era impenetrabile, al punto che soltanto il fracasso lo informò di quanto era accaduto. La lotta poi riprese, fremente d'angoscia e di furia scatenata, tradita da respiri profondi e affannosi. Un sforzo disperato ed un violentissimo strappo diedero l'impressione che la porta fosse stata divelta dai cardini, quindi il corpo a corpo riprese, evidentemente sulla stretta sporgenza che correva oltre la porta lungo il baratro. Infine la terribile lotta si concluse con un tremendo fracasso, come se un pesante corpo fosse stato scaraventato fuori dalla sporgenza e stesse precipitando nell'abisso, frantumando i sottili rami che la attraversavano sulla sommità. Poi tutto ridivenne silenzioso e grave, e risuonò soltanto il respiro del vento notturno tra gli alberi della forra. Il vecchio servitore non ebbe il coraggio di riattraversare l'atrio, e la notte li parve interminabile. Finalmente giunse il mattino, e con le prime luci la rivelazione di quanto era accaduto nella profonda oscurità. Sul pavimento accanto alla porta giaceva la spada di Sir Robert, che gli era sfuggita nella lotta. Una gigantesca sversa era stata strappata via dal massiccio stipite della porta, a causa di uno sforzo quasi sovrumano, possibile soltanto alla stretta di un uomo disperato. E sulla roccia, all'esterno, erano rimasti i segni dei piedi che vi erano stati trascinati sopra. Ai piedi del precipizio, non a picco sotto il castello, ma trascinati un po' più a valle lungo la forra, furono trovati i resti di Sir Robert. Non fu possibile identificare un solo lineamento, la configurazione di un arto. La mano destra, tuttavia, era intatta, e le sue dita erano strette nella fissità della morte, intorno ad una lunga ciocca di capelli ruvidi e folliginosi. L'unica prova della presenza di un'altra persona. Così almeno, però, afferma la leggenda. Questa storia, così come l'ho raccontata, era una delle preferite tra gli amanti di vicende arcane. Ma i fatti originali sono assai diversi, fatta eccezione per il nome del personaggio principale, Sir Robert Ardug, per le circostanze straordinariamente misteriose che accompagnarono la sua morte, e per il fatto che le due cronache sono del tutto inconciliabili, anche a voler lasciare un ampio margine alle coloriture e alle esagerazioni. A meno che non si voglia ammettere che le voci e le fantasie abbiano fuso insieme le storie bizzarre di due differenti membri della schiatta degli Ardug. Comunque sia, farò qui di seguito al lettore un preciso resoconto degli avvenimenti dai quali è nata la fantastica narrazione di qui sopra. Riguardo a questi avvenimenti non possono esservi errori, sono autenticati nel modo più completo e ricavabili da precise testimonianze, ed io li riferirò soprattutto, in base a quanto mi è stato detto, da una signora che ha giocato un ruolo importante in questa storia, la quale, ci tengo a sottolinearlo, è una delle poche vicende meravigliose, solidamente basate su prove che mi è stato dato di ascoltare. Fonderò insieme, fin dove potrò, unendoli in una singola narrazione, i contributi di molte persone diverse, testimoni oculari di quanto mi hanno riferito, le cui parole mi hanno particolarmente colpito per il loro profondo tono di verità. Sir Robert Ardug era l'erede e il rappresentante della famiglia di cui portava il nome, ma a causa della prodigalità di suo padre la proprietà giunse a lui in condizioni assolutamente deplorevoli. Spronato dallo spirito inquieto della giovinezza, o molto più probabilmente da un sentimento di orgoglio che non tollerava la presenza di testimoni nella dimora paterna per quella che lui giudicava un'umiliante diminuzione nello stile di vita e nelle tradizioni di ospitalità che fino a quel giorno avevano contraddistinto la sua famiglia, Sir Robert lasciò l'Irlanda e si recò all'estero. Che cosa abbia fatto e quali paesi abbia visitato durante la sua lontananza non lo si seppe mai. Né lui vi accennò dopo il suo ritorno, né incoraggiò mai domande che anche soltanto sfiorassero il suo soggiorno all'estero. Lasciò dunque l'Irlanda nell'anno 1742, non appena raggiunta la maggiore età, e non si udì più parlare di lui fino al 1760, circa 18 anni più tardi quando fece ritorno. Il suo aspetto, come ci si poteva aspettare, era assai cambiato, molto più cambiato in verità di quanto ci si sarebbe potuti aspettare anche dopo 18 anni di assenza. Ma per controbilanciare lo sfavorevole cambiamento che il tempo aveva impresso sulla sua persona e sui suoi lineamenti, Sir Robert aveva acquisito tutti i vantaggi collegati ai modi e ai gusti raffinati che, si presume, debbano derivare dai viaggi all'estero. Ma la sorpresa più grande, e tutti ben presto dovettero arrendersi all'evidenza, era il fatto che Sir Robert era ricco, straordinariamente ed inesplicabilmente ricco, e questo fatto fu reso manifesto non soltanto dalle sue costose abitudini di vita, ma anche dalla rapidità con la quale liberò da ogni vincolo la sua proprietà, acquistando in sovra più altri vasti terreni. E in tutto questo non poteva esserci alcun inganno, poiché pagava tutto e subito in denaro sonante, sia agli acquisti più importanti sia a quelli più insignificanti. Sir Robert era un uomo incredibilmente gioviale, e poiché godeva sia del fatto di essere il rampollo di una nobile famiglia, che del possedere una vasta proprietà era naturalmente accolto con la più grande cordialità anche tra i nobili della capitale. Fu così che conobbe le due bellissime Miss F e D, allora gli ornamenti più luminosi dei più eletti circoli alla moda di Dublino. La loro famiglia era legata in molti modi alla nobiltà, e Lady Di, la loro sorella maggiore, di molti anni più vecchia e sposata per alcuni anni a colui che era stato un famoso gentiluomo, era adesso la loro protettrice. Queste considerazioni, oltre al fatto che le fanciulle erano ovunque considerate due ereditiere, anche se non di una somma favolosa, garantivano loro una posizione elevata nella migliore società che l'Irlanda avesse prodotto in quegli anni. Le due fanciulle differivano assai tra loro, sia nell'aspetto che nel carattere. La più anziana delle due, Emily, generalmente era considerata la più avvenente, poiché la sua bellezza era di quel tipo solenne che non manca mai di colpire già alla prima occhiata, possedendo tutti i vantaggi di un elegante figura e di un portamento altero. La bellezza del suo viso, inoltre, si fondeva perfettamente con quella della sua figura e del suo portamento. I suoi capelli erano di un nero corvino, straordinariamente folti, e formavano un perfetto contrasto con l'evigato biancore della sua fronte. Le sopracciglia, finemente disegnate, erano nere come i riccioli che le incorniciavano il viso, ed anche i suoi occhi, vividi e lucenti, irradiavano tutto il potere e la profondità del giaietto, con una grande ricchezza d'espressione. Non era tuttavia soltanto una regina della tragedia. Quando sorrideva, e lo faceva assai spesso, le fossette che le comparivano sulle guance e sul mento, i denti piccoli e meravigliosamente dispiegati in una risata argentina, ma più di ogni altra cosa, il malizioso arcuarsi dei suoi occhi profondi e luminosi dimostravano che la natura non si era dimenticata di riporre in lei le caratteristiche più dolci e delicate di una donna. La sua sorella più giovane, Mary, era, come non infrequentemente accade, il tipo esattamente opposto di bellezza. Aveva i capelli di un biondo corvino, un incarnato roseo, ed era anche lei molto graziosa e assai vivace. I suoi occhi avevano quel colore intensamente grigio così ammirato dai poeti, ed erano pieni di espressione di brio. Anche lei, dunque, era una bella ragazza, piena di vita, anche se esprimeva queste sue qualità in modo assai di simile da sua sorella. Le differenze tra loro non si fermavano qui, ma andavano molto al di là delle semplici apparenze. Le loro menti, i caratteri, differivano almeno quanto le rispettive carnagioni. Mary, la bellezza bionda, era spiccatamente dotata della rendevolezza e della dolcezza di temperamento che i fisiognomisti attribuiscono alle persone dall'incarnato roseo. Si faceva guidare molto più dall'impulso che dal sentimento, e di conseguenza era molto più esposta della sorella ad essere vittima delle circostanze esterne. Emily, al contrario, possedeva una considerevole fermezza e decisione. Era meno eccitabile, ma quando questo le capitava, i suoi sentimenti erano molto più intensi e duraturi. Difettava alquanto di gaiezza, ma non era volubile quanto la sorella più giovane. Le sue opinioni e le sue amicizie erano molto più ponderate, e i suoi affetti si destavano molto più lentamente, ma con maggior determinazione. Questa fermezza di carattere non aveva però nulla di mascolino, e non guastava assolutamente la grazia femminea dei suoi modi. Sir Robert Ardug per lungo tempo dimostrò uguali attenzioni alle due sorelle, e molte furono le congetture e le supposizioni, su quale delle due fanciulle avrebbe finito per scegliere. Infine, ogni dubbio fu dissipato. Chiese in sposa la bellezza bruna, Emily F., e fu accettato. Il matrimonio venne celebrato in modo confacente alle ricchezze e dalla nobile schiatta dei due sposi. Sir Robert e Lady Ardug lasciarono quindi Dublino per trascorrere la luna di miele nella dimora di famiglia, il castello di Ardug, che negli ultimi tempi era stato nuovamente decorato con una dovizia che sfiorava la magnificenza. Sia che così compiacesse i desideri della sua signora, sia per un capriccio personale, da quel giorno le abitudini di Sir Robert cambiarono in maniera stupefacente. Fino a quel momento aveva condotto una vita allegra e vivace, anche se non dissoluta. Dopo il matrimonio, invece, si trasformò in un tranquillo gentiluomo di campagna, e molto raramente si spinse a visitare la capitale. In queste occasioni i suoi soggiorni erano il più possibile brevi, nei limiti consentiti dalla natura dei suoi affari. Lady Ardug tuttavia non soffrì per questo cambiamento, ma se non per il fatto di trovarsi isolata dalla vita della grande società. Ma poiché le ricchezze di Sir Robert e l'ospitalità di cui aveva fatto una tradizione nella sua dimora di famiglia lo consentivano, tutti i parenti e gli amici della sua signora, che l'avessero desiderato, erano liberi di visitare il castello. E essendo il suo stile di vita improntato all'opulenza e non mancando nel suo interno ogni fonte di passatempo, pochi inviti di Sir Robert e della sua signora venivano ignorati. Trascorsero molti anni tranquilli, durante i quali, però, le speranze di Sir Robert e Lady Ardug di essere allietati da un figlio andarono deluse. Vi fu soltanto un avvenimento, in questo periodo, che merita di essere ricordato. Sir Robert aveva portato con sé dall'estero un balletto, il quale a volte sosteneva di essere francese, altre volte italiano e altre volte ancora tedesco. Parlava tutte queste lingue con uguale scioltezza e sembrava provare piacere nel mettere alla prova la sagacia e nel suscitare la curiosità dei visitatori del castello, tutte le volte che attaccavano discorso con lui, oppure, colpiti dal suo singolare aspetto, si mettevano a interrogarlo sul suo paese e sulle sue origini. Sir Robert lo chiamava, alla francese, Jacques, ma fra i servi dei ranghi più bassi era familiarmente noto come Jacques il Diavolo, un appellativo originato da una sua presunta indole maligna e da una reale riluttanza a mescolarsi con quelli che si ritenevano suoi uguali. Questo suo atteggiamento, cupo e riservato, unito al mistero che circondava la sua persona, lo avevano fatto diventare oggetto di sospetto e di indagini da parte degli altri servitori, fra i quali si susurrava che dirigesse segretamente ogni azione di Sir Robert come uno spietato tiranno e, inoltre, per rifarsi della sua apparente pubblica dedizione esigesse in privato dal suo cosiddetto padrone ogni forma di più abbietto omaggio. L'aspetto di quell'uomo era, a dir poco, incredibilmente bizzarro. Di bassa statura questo suo difetto era messo ancora più in risalto da una deformazione della colonna vertebrale, tanto considerevole da poter essere considerata quasi una gobba. Anche i suoi lineamenti avevano tutta la sprezza e il pallore che di solito accompagnano le deformità. I capelli, neri come la fuligine, li ricadevano giù per le spalle in riccioli trascurati e mai incipriati. Una stranezza a quei tempi. C'era anche qualcosa di spiacevole nel fatto che non alzava mai gli occhi per fissare quelli degli altri. Questo fatto, appunto, veniva spesso citato come prova che qualcosa non andava in lui e si diceva che questo atteggiamento non fosse dovuto tanto alla timidezza, che nella maggior parte dei casi ne è responsabile, quanto alla consapevolezza che i occhi possedevano un potere il quale, se usato, avrebbe tradito la sua origine soprannaturale. Una volta, soltanto una volta, egli aveva violato quella sinistra abitudine. Ciò era stato quando le speranze di Sir Robert erano andate amarramente deluse. La sua sposa, dopo un parto complicato e assai doloroso, aveva dato alla luce un bimbo morto. Non appena la notizia si era diffusa nel castello, un servitore, dovendo sbrigare alcune incombenze, uscito dalla porta del cortile, aveva incontrato Jacques, il quale, contrariamente alla sua abitudine, gli si era avvicinato e gli aveva detto così, dopo tanta agitazione, il figlio ed erede è nato morto. Quelle parole erano state accompagnate da una risata gracchiante, l'unica nota di allegria che, a memoria d'uomo, avesse mai mostrato. Il servitore, che già era amaramente deluso, avendo sperato in un periodo di feste, gozzoviglie e di scostumatezze impunite per i giorni che avrebbero dovuto seguire al battesimo, rimbeccò aspramente il valletto, minacciandolo che avrebbe riferito a Sir Robert il modo in cui aveva recepito la notizia, mentre avrebbe dovuto riempire di dolore qualsiasi servitore fedele. Avendo ormai rotto il ghiaccio, stava procedendo nelle accuse con crescente disinvoltura, quando la sua ringa fu troncata di netto e la sua temerarietà punita, poiché l'altro alzò la testa e gli rivolse un'occhiata così torva e spaventosa, demoniaca e folle, che avrebbe perseguitato la sua mente con incubi e brividi per molti mesi a venire. Verso quell'uomo Lady Hardag aveva provato fin dal primo istante un'antipatia che sconfinava nell'orrore, una mescolanza di odio e di paura così intensa che l'aveva spinta a supplicare il suo sposo di licenziarlo, offrendosi di provvedere personalmente, grazie a quelle proprietà che Sir Robert aveva messo a sua disposizione col contratto di matrimonio, pur di essere liberata dall'ansietà e dallo sconforto provocati dal continuo timore di incontrarlo. Sir Robert, tuttavia, non ne volle sapere. La richiesta sulle prime sembrò agitarlo e angustiarlo. Quando fu ancora sollecitato, nonostante il suo perentorio rifiuto esplose in un violento accesso di rabbia. Parlò oscuramente di grandi sacrifici da lui fatti e minacciò che, se la richiesta in qualunque momento fosse stata rinnovata, avrebbe abbandonato sia lei che il paese per sempre. Questo fu però il suo unico accesso di violenza. In generale, il suo comportamento verso Lady Hardag, anche se non sfiorò mai un amore eccessivo, fu certamente gentile e rispettoso. E ne fu più che ripagato dal fervente attaccamento con cui lei lo ricambiava. Non molto tempo dopo quel contrasto fra Sir Robert e Lady Hardag, una notte, quando la famiglia si era ritirata a letto e tutto era da tempo piombato nel silenzio, il campanello dell'alloggio di Sir Robert squillò con improvvisa violenza. Il suono si ripetì più volte, a intervalli sempre più brevi e con violenza crescente, come se la persona che tirava il cordone del campanello fosse sconvolta dalla presenza di qualche terribile pericolo incombente. Un servitore di nome Donovan fu il primo a rispondere. Si rivestì alla meglio e si precipitò verso gli squilli. Sir Robert aveva scelto come suo alloggio personale una stanza lontana dalle altre camere da letto del castello, la maggior parte delle quali si trovavano nella parte più moderna della dimora e ne aveva sbarrato l'ingresso con una doppia porta. Mentre il servitore apriva la prima di esse, il campanello di Sir Robert squillò di nuovo, con rinnovata insistenza. La porta più interna resistette agli sforzi fatti per aprirla, ma dopo qualche violenta spinta, non essendo stata perfettamente chiusa, o forse a causa del chiavistello non abbastanza robusto, cedette e il servitore precipitò all'interno, avanzando di alcuni passi prima di recuperare l'equilibrio. Quando la porta si spalancò, la voce di Sir Robert gli ingiunse imperiosa. Aspetta fuori, non entrare ancora! Ma la proibizione giunse troppo tardi. Accanto ad un basso letto a rotelle, sul quale a volte Sir Robert dormiva, questa era una sua particolare eccentricità, sedeva in una grande poltrona, o piuttosto vi era scompostamente disteso il valletto Jacques, con le braccia incrociate, i piedi protesi in avanti sul pavimento, così da ostentare le sue gambe deformi, la testa rovesciata all'indietro, e gli occhi fissi sul suo padrone, con un indescrivibile sguardo di sfida e di derisione. Mentre, come per accentuare ancora di più la strana insolenza del suo atteggiamento, teneva infilato in testa il berretto di tessuto nero che aveva l'abitudine di portare. Sir Robert stava in piedi davanti a lui, ad un paio di metri di distanza, in un atteggiamento che esprimeva disperazione, terrore, e quella che avrebbe potuto descriversi come un'umiltà piena di angoscia. Agitò la mano due o tre volte, come per congedare il servitore, il quale, tuttavia, restò immobile sul posto dove si era fermato. Poi, come dimentico di tutto, fuorché dell'agonia dentro di lui, Sir Robert si premette le mani strette a pugno contro la fronte gelida, scrollando via le stille di sudore che l'imperlavano. Jacques ruppe il silenzio. Donovan, disse, sveglia quell'ubriacone infingardo di Carlton e il suo padrone ordina che la carrozza da viaggio sia pronta alla porta del castello tra mezz'ora. Il servitore non si mosse, come se dubitasse di ciò che doveva fare, ma i suoi scrupoli furono prontamente risolti da Sir Robert, il quale gli disse in fretta. Vai, vai, fai tutto quello che ti ordina. I suoi ordini sono i miei. E ripetilo a Carlton. Il servitore si allontanò rapidamente per obbedire e, meno di mezz'ora dopo, la carrozza era alla porta. Jacques, dopo aver ordinato al cocchiere di recarsi a B, una piccola città distante una dozzina di miglia e il luogo più vicino dove avrebbero potuto trovare dei cavalli di ricambio, balzò dentro al veicolo che partì immediatamente. Anche se era una splendida nottata di luna piena, la carrozza riusciva a procedere solo molto lentamente. Dopo due ore, i viaggiatori si trovarono a otto miglia dal castello e la strada attraversava uno squallido pianoro ricoperto di Erika, che si innalzava in lontananza su entrambi i lati, fino a confondersi con una ininterrotta successione di colline spoglie, nelle quali l'immaginazione poteva vedere il pigro gonfiarsi di un mare tenebroso e sonnolento, cristallizzato nel suo primo movimento da qualche potere sovrannaturale. Questa è una landa desolata e brulla, e non vi sono abitazioni nelle sue vicinanze. La sua monotonia è interrotta soltanto qua e là da grigie barriere di roccia che sporgono dalla brughiera, e l'effetto è reso ancor più desolante e spettrale dalle ombre smisurate e brumose che la luna proietta lungo i declivi delle colline. Quando si trovarono circa al centro di quello squallido pianoro, Carlton, con sua viva sorpresa, scorse una figura non molto lontana, immobile sul ciglio della strada. Ma ciò che più lo sconvolse fu la scoperta, quando si fu avvicinato, che quell'individuo era per l'appunto proprio la persona che lui era convinto si trovasse in quel momento, tranquillamente seduta dentro la carrozza. Il cocchiere si arrestò accanto al viandante, salutandolo con un cenno del capo, e il valletto esclamò, Carlton ti ho preceduto, le strade sono difficili, perciò mi prenderò cura di me stesso per il resto del viaggio. Torna indietro meglio che puoi, ed io seguirò il mio naso. Così dicendo, gettò una borsa in grembo al cocchiere, quindi fece dietro front e si allontanò rapidamente, ad angolo retto rispetto alla strada, in direzione del tenebroso crinale che incombeva minaccioso sul pianoro. Il servitore lo seguì con lo sguardo, fino a quando non fu scomparso fra le nebbiose ombre della notte. Né lui, né gli altri abitanti del castello, viderò mai più Jacques. La sua scomparsa, come ci si poteva aspettare, non suscitò alcun rimpianto tra i servitori e i dipendenti del castello, e Lady Hardag non cercò neppure di dissimulare la sua gioia. Ma per Sir Robert, le cose andarono in maniera diversa. Per tre o quattro giorni dopo questo avvenimento, si rinchiuse nella sua stanza, e quando ritornò alle occupazioni ordinarie, lo fece con lugubre indifferenza, mostrando di dedicarvisi più per abitudine che per un reale interesse. Da quel giorno apparve profondamente e incomprensibilmente cambiato, e da allora diede l'impressione di considerare la vita un peso dal quale non avrebbe più tratto né guadagno né piacere. La sua indole, tuttavia, lungi dal diventare capricciosa o imbronciata, divenne, per quanto malinconica, fredda e tranquilla in modo innaturale. Si trasformò in un uomo silenzioso e distratto, e il suo già scarso buonumore li venne a mancare del tutto. Queste tetre abitudini, come è facile prevedere, influirono profondamente sulla vita del castello. Il cupo e malinconico umore del padrone sembrò comunicarsi ai domestici e perfino alle mura stesse dell'edificio. Passarono così alcuni anni, e il clamore dei banchetti e delle feste era ormai da lungo tempo estraneo al castello, quando Sir Robert chiese alla sua Lady, col più vivo stupore di lei, di invitare venti o trenta dei suoi amici a trascorrere il Natale, ormai vicino, al castello. Lady Ardug fu ben lieta di accondiscendere, e sua sorella Mary, che non si era ancora sposata, e Lady Dee furono naturalmente comprese nella lista degli invitati. Lady Ardug chiese alle sue sorelle di mettersi in viaggio il più presto possibile, così da poter godere un po' della loro compagnia prima dell'arrivo degli altri ospiti. Per accondiscendere alla richiesta, esse lasciarono Dublino quasi subito dopo aver ricevuto l'invito, una settimana prima della festa che avrebbe riunito al castello l'intero gruppo. Per far più presto, fu deciso che sarebbero partite in diligenza, mentre lo staffiere di Lady Dee le avrebbe seguite con i cavalli. Lei avrebbe portato la propria ancella e un servitore. Lasciarono la città quando ormai il giorno era inoltrato, e di conseguenza fecero soltanto tre tappe. Verso le otto di sera raggiunsero la città di Key, che distava quindici miglia dal castello di Ardug. Qui, a causa della grande stanchezza di Miss F, la cui salute da qualche tempo si era fatta delicata, fu deciso di sostare per la notte. Occuparono dunque il miglior alloggio della locanda, e Lady Dee sollecitò qualche rinfresco che le fatiche della giornata avevano reso necessario, mentre la sorella più giovane si ritirava in camera da letto a riposare un po', dato che il salotto non aveva niente di abbastanza comodo e lussuoso che assomigliasse a un sofà. Miss F era in questo periodo, come già detto, cagionevole di salute. Quel giorno la grande stanchezza e il cielo tetro ed inclemente avevano contribuito a deprimerla ancora di più. Lady F non restò a lungo sola. All'improvviso la porta di comunicazione si spalancò e sua sorella Mary ricomparve in uno stato di grande agitazione. Si accasciò, pallida e tremante, su una sedia e scoppiò in un pianto dirotto. Soltanto quando ebbe versato un copioso torrente di lacrime, si calmò e riuscì a descrivere la causa della sua eccitazione e della sua angoscia. Si trattava di questo. Non appena si era distesa sul letto, era piombata in un sonno febbrile e tormentoso. Grottesche immagini dagli incredibili colori avevano preso a turbinare nella sua fantasia assopita, in un assurdo caleidoscopio. Qualche istante dopo, Mary proseguì, una nebulosità si era interposta tra i suoi occhi e lo scenario sempre mutevole che si agitava nella sua immaginazione. Da questa caligine era gradualmente emersa una figura, con la schiena rivolta verso di lei. Era una donna, la quale, nel più completo silenzio, stava esibendosi in una penosa pantomima, torcendo le mani e scuotendo la testa da ogni lato, come se fosse esausta per le eccessive fatiche, la nausea e l'impazienza tipici del dolore e per una intollerabile sofferenza. Per un lungo tempo Mary aveva cercato, ma in vano, di scorgere il volto di quell'apparizione che si esibiva in quel modo davanti a lei. Col passare dei minuti la figura sembrò assumere un'aria di autorità, come se fosse in procinto di dare ordini a qualcuno inferiore a lei. Nel far questo girò la testa e mostrò con spettrale chiarezza i lineamenti di Lady Hardag, pallida come la morte, i capelli neri scomposti e arruffati e gli occhi offuscati dal pianto. La sconvolgente emozione che Mary aveva provato a quella rivelazione, poiché fino a quel momento aveva osservato l'apparizione più con un senso di curiosità e di vago interesse che con effettiva partecipazione era stata così orribile che l'aveva ridestata di colpo. Era balzata a sedere sul letto, esplorando timorosamente con lo sguardo la stanza a stento illuminata dalla debole fiamma di una candela, come se si fosse aspettata di continuare a scorgere l'orribile visione che continuava a perseguitarla da qualche angolo. Le sue paure tuttavia avevano trovato conferma, anche se non nel modo che si aspettava, ma anche così era stato qualcosa di spaventoso. Non aveva avuto neppure il tempo di respirare o di raccogliere i propri pensieri e aveva udito, o le era sembrato di udire, la voce di sua sorella, Lady Hardag, si inghiozzare disperatamente o addirittura urlare dal terrore, invocando lei e Lady D nel modo più urgente o ossessivo, sollecitandole, per l'amor di Dio, a non perdere tempo ed a raggiungerla immediatamente. Il tutto così orrendamente distinto, quasi che Lady Hardag si trovasse a pochi metri dal suo giaciglio. Mary allora era balzata giù dal letto e lasciandosi la candela alle spalle si era precipitata verso il salotto con la voce che ancora l'inseguiva, finché, giunta alla porta, il disperato richiamo si era spento con un ultimo singhiozzo. Non appena Mary si fu ripresa abbastanza, manifestò la sua ferma intenzione di proseguire immediatamente il viaggio, senza altri indugi verso il castello di Hardag. Soltanto a prezzo di molti sforzi, Lady D riuscì finalmente a convincerla a restare dove si trovava fino al mattino seguente, quando sarebbero state molto più in forze, dopo essersi riposate un'intera notte, anche se il dormire era fuori questione. Lady D era convinta, a causa dell'agitazione nervosa di sua sorella e del suo stato febbrile, che già quel giorno si fosse affaticata troppo e che era quindi indispensabile non proseguire ulteriormente il viaggio. Finalmente riuscì a convincere Mary a ritornare nella sua stanza, dove le fece compagnia, finché non fu andata a letto e non si fu calmata. Poi Lady D ritornò nel salotto e, dato che non aveva sonno, restò seduta accanto al fuoco. La sua solitudine però fu ben presto interrotta da una nuova comparsa di sua sorella, se possibile ancora più agitata di prima. Mary dichiarò che, non appena Lady D l'aveva lasciata sola, la stanza era stata invasa dagli stessi gemiti angosciosi, accompagnati dalle più dolorose e urgenti suppliche di precipitarsi subito al castello di Hardag. E tutto questo, con l'identica voce di sua sorella, è pronunciato alla stessa distanza di prima. Questa volta le grida e i lamenti l'avevano accompagnata fino alla porta del salotto e si erano interrotti soltanto quando se l'era chiusa alle spalle. Mary dichiarò con incrollabile decisione che niente adesso avrebbe potuto impedirle di proseguire immediatamente per il castello, aggiungendo che, se Lady D non voleva accompagnarla, sarebbe andata da sola. La superstizione in tutte le epoche è sempre stata contagiosa e il secolo scorso offriva un terreno assai più fertile alla sua proliferazione. Lady D fu talmente colpita dall'angoscia di sua sorella che a sua volta si preoccupò. Visto che Mary era irremovibile, decise di partire con lei immediatamente. In pochi minuti furono procurati dei cavalli freschi e le due dame e i loro staffieri ripresero il viaggio, ingiungendo al cocchiere di accelerare la corsa il più possibile e promettendogli un premio si avesse fatto presto. Le strade allora erano in condizioni assai peggiori in tutto il sud dell'Irlanda, molto più di quanto lo siano ora, e le 15 miglia che una moderna carrozza avrebbe percorso in un'ora e mezza richiesero, nonostante ogni sforzo possibile, un tempo almeno doppio. Mary non cessò di essere nervosa e requieta per tutto il viaggio. Continuava a sporgere la testa dal finestrino ad ogni istante e quando finalmente furono vicini all'ingresso dei terreni che circondavano il castello, a circa un miglio dall'edificio, la sua angoscia cominciò a trasmettersi alla sorella. Il postiglione, balzato a terra, stava armeggiando per aprire il cancello, a quell'epoca un inconveniente inevitabile, poiché fino alla metà del secolo scorso la casupola per il custode non era affatto comune nel sud dell'Irlanda e le chiavi e le serrature erano pressoché sconosciute. Era appena riuscito a dischiudere il massiccio cancello di quercia, così da consentire al veicolo di passare, quando un servitore a cavallo giunse al galoppo lungo il viale, si arrestò accanto alla carrozza e chiese al postiglione chi fossero gli occupanti. Quando lo seppe, si avvicinò al finestrino della carrozza e consegnò un messaggio nelle mani di Lady D. Aiutandosi con una delle lanterne della carrozza, riuscirono a decifrarlo. Era scritto in preda a un grande turbamento e diceva testualmente, mia cara sorella, mie care sorelle, entrambe. In nome di Dio, non perdete tempo, sono spaventata e infelice. Non posso spiegarvi nulla finché non sarete arrivate. Sono troppo terrorizzata per poter scrivere coerentemente, ma cercate di capirmi lo stesso. Affrettatevi, non perdete tempo. Temo che possiate arrivare troppo tardi. Firmato Emily Ardug. Il servitore non era in grado di dire altro, se non che al castello c'era una grande confusione e Lady Ardug aveva pianto disperatamente tutta la notte. Sir Robert invece stava bene. Del tutto incapaci di immaginare quale potesse essere la causa della grande angoscia di Lady Ardug, le due sorelle incitarono il cocchiere ad affrettarsi su per la strada, ripida e accidentata, che serpeggiava attraverso il folto degli alberi, i quali, con i loro rami ispidi e contorti, ora completamente spogli per le gelide raffiche del vento, si protendevano desolati sopra la carreggiata. Quando la carrozza si arrestò davanti al portale, l'angoscia delle due donne era diventata quasi una malattia. Senza attendere l'aiuto dei servi, balzarono a terra e in un istante furono alle porte del castello. Dall'interno giungevano distintamente gemiti e lamenti e l'indistinto brusio di coloro che tentavano di alleviare le sofferenze di colui o colei che si lamentava. La porta fu subito aperta e, quando le due donne entrarono, per prima cosa videro davanti a loro Lady Hardag, sprofondata su uno scranno nell'atrio, che piangeva e si torceva le mani in preda a un'angoscia indicibile. Accanto a lei, due vecchie avvizzite e rugose si sforzavano di consolarla senza neppure sapere o preoccuparsi di sapere il motivo di tanto dolore. Non appena Lady Hardag vide le sorelle, balzò in piedi, gettò loro le braccia al collo, le baciò ripetutamente senza parlare e poi, prendendole entrambe per mano, sempre continuando a singhiozzare, le condusse in una piccola stanza accanto all'atrio nella quale ardeva una piccola lampada. Dopo aver chiuso la porta si sedette tra loro. Dopo averle ringraziate per la prontezza con la quale avevano risposto al suo appello, raccontò con parole incoerenti a causa della grande agitazione in cui si trovava, che Sir Robert l'aveva informata in privato e col suo tono più solenne, che lui sarebbe morto quella notte e durante l'intera serata si era affaccendato a impartire dettagliate istruzioni per il suo funerale. Lady Dee a questo punto suggerì che Sir Robert fosse vittima di un'allucinazione febbrile, ma a questa ipotesi Lady Hardag reagì vivacemente. Oh no, no! Dio volesse che potessi crederlo! Oh no! Aspettate fino a quando non l'avrete visto! C'è una calma spaventosa in tutto quello che dice e fa! Le sue istruzioni sono così precise e lui è così perfettamente padrone della sua mente! È impossibile! Semplicemente è impossibile! E pianse ancora più amaramente. In quel momento si udì la voce di Sir Robert che impartiva alcune istruzioni mentre scendeva giù dalla scalinata. Lady Hardag esclamò in fretta. «Andate a guardarlo voi stesse! È là fuori!» Lady Dee uscì perciò nell'atrio e qui l'incontrò Sir Robert. La salutò cortesemente e dopo una breve pausa aggiunse «Lei è venuta per un ben triste evento. C'è una grande confusione in questa casa e alcuni dei suoi abitanti sono oppressi da un intenso dolore». Le afferrò una mano, la guardò fissa negli occhi e continuò «Io non vivrò fino a vedere il sole di domani». «Lei sta male! Non c'è alcun dubbio!» replicò Lady Dee «Ma sono convinta che domani la sua salute sarà molto migliorata e il giorno successivo starà ancora meglio». «Non sono malato!» rispose lui. «Mi tocchi le tempie! Sono fredde! Appoggi le sue dita sul mio polso! Il suo battito è lento e moderato!» «Non ho mai goduto di una salute più perfetta! Eppure so che prima che siano trascorse tre ore io non esisterò più!» «Sir! Sir!» l'interruppe lei, assai stupita, ma desiderosa di nascondere l'impressione che la tranquilla solennità dei suoi modi le aveva fatto suo malgrado. «Sir! Lei non dovrebbe scherzare così! Non dovrebbe parlare con leggerezza di simili argomenti! Lei si burla di quanto c'è di più sacro! Sta giocando con gli affetti più sublimi di sua moglie!» «Aspetti, mia buona Lady!» disse lui. «Se quando questo orologio batterà la terza ora, io mi sarò dimostrato un incredibile sciocco, mi rimproveri pure! Ma la prego, ora ritorni da sua sorella!» «Lady Ardug deve essere veramente commiserata, ma quello che è accaduto non si può cambiare!» «Verrò a trovare lei e Lady Ardug prima della mia morte! Cerchi di calmarla! Le sue sofferenze mi angustiano molto, ma al passato non si può porre rimedio!» «Così dicendo, risalì la scala, e Lady D rientrò nella stanza in cui si trovavano le sue sorelle!» «Non è vero quanto ti ho detto!» Esclamò Lady Ardug quando lei rientrò. «Ne dubiti ancora? Pensi che ci sia qualche speranza?» Lady D rimase silenziosa. «Oh, nessuna! Nessuna!» Proseguì Lady Ardug «Vedo, vedo che ti sei convinta!» E torse le mani in un gesto di disperazione e di angoscia. «Mia cara sorella», disse Lady D, «non c'è dubbio, tutta questa faccenda ha qualcosa di strano! Posso solo sperare che l'apparente calma di Sir Robert sia qualcosa di ingannevole, che qualche febbre latente si sia in realtà impadronita della sua mente, trasformando, per uno sconvolgimento nervoso, un avvenimento banale in qualcosa che nella sua immaginazione è diventato il presagio di una fine imminente. In queste congetture, insoddisfacenti perfino per coloro che le formulavano, e doppiamente per Lady Ardug, per la quale avrebbero dovuto essere di conforto, passarono più di due ore. Lady D cominciava a sperare che il termine fatale potesse passare senza il verificarsi di alcun tragico avvenimento, quando Sir Robert entrò nella stanza. Quando comparve sulla soglia, si portò il dito alle labbra in un gesto di ammonimento, imponendo il silenzio. Poi, dopo aver stretto la mano prima all'una, poi all'altra cognata, si inchinò sul corpo quasi esanime della sua sposa, e per due volte premette le labbra sulla fronte gelida ed esangue di lei. Quindi, senza far rumore, uscì. Lady D lo seguì fino alla porta. Lo vide prendere una candela nell'atrio e salire con passo fermo la scalinata. Spinta da una sensazione di orripilata curiosità, continuò a seguirlo a distanza. Lo vide entrare nella sua stanza privata e chiudere a chiave la porta dietro di sé. Lady D avanzò quanto più le fu possibile e si accostò alla porta chiusa, cercando di non fare il minimo rumore. Qui, dopo qualche tempo, fu raggiunta dalle sue sorelle, Lady Hardag e Mary. In un angoscioso silenzio, cercarono di intuire che cosa mai stesse accadendo là dentro. Udirono distintamente Sir Robert passeggiare su e giù per la stanza, per molti minuti. Poi, un rumore, come se qualcuno si fosse gettato pesantemente sul letto. Istintivamente, dimenticandosi che la porta era stata chiusa a chiave, Lady D afferrò la maniglia e girò per entrare. Qualcuno all'interno, accanto allo stipide, esclamò «Silenzio! Silenzio!» Lady D era molto allarmata, bussò violentemente. Non vi fu risposta. Bussò con rinnovata violenza, ma anche questa volta senza alcun risultato. A quel punto, Lady Hardag, lanciando un urlo lacerante, crollò al suolo svenuta. Tre o quattro servi, messi in allarme per il frastuono, giunsero di corsa su per le scale. Lady Hardag fu trasportata, apparentemente senza vita, nella sua stanza. Quindi i servi, dopo aver bussato a lungo e ripetutamente, ma senza risultato, decisero di entrare con la forza nella stanza di Sir Robert. Dopo aver resistito qualche istante, la porta cedette ai loro sforzi congiunti e tutti piombarono insieme nella stanza. Una candela posta su un tavolo all'estremità della camera l'illuminava debolmente. Disteso sul letto, giaceva Sir Robert Hardag. Era morto, aveva gli occhi aperti e nessuna convulsione aveva distorto i suoi lineamenti. Sembrava che l'anima fosse uscita rapidamente dal suo corpo, senza lottare. Nel toccare il corpo, si scoprì che era gelido come il marmo. Ogni traccia di calore vitale l'aveva abbandonato. I servi chiusero gli occhi sbarrati e, lasciandolo alle cure di coloro che per la loro età ed il sesso sembravano considerare un loro privilegio quello spettacolo di morte, ritornarono da Lady Hardag, ormai vedova. Quando gli ospiti giunsero al castello, l'atmosfera era intrisa di morte. Non c'era molto dolore, ma inconfessati terrori trasparivano da ogni volto. Gli invitati parlavano fra loro a bassa voce, e i servi camminavano in punta di piedi, come se avessero paura perfino del rumore dei loro passi. Il funerale fu splendido. Il corpo, secondo gli ultimi desideri di Sir Robert, fu trasportato a Dublino, e qui fu sepolto fra le antiche mura della chiesa di Santo Oden, dove ancora oggi si può leggere l'epitaffio con la data e il nome delle ceneri che vi sono custodite. Né lo scudo dipinto, né la lastra di marmo, sono però servite a salvare dall'oblio la storia del morto, e il cui nome finirà tra non molto per cancellarsi completamente dalla scritta sgretolata. Gli avvenimenti che ho narrato non sono immaginari, sono reali, e c'è ancora viva una persona, la cui autorità nessuno sarebbe mettere in dubbio, che potrebbe testimoniare l'assoluta esattezza di ogni frase da me scritta, con tutti i dettagli, quale testimonio oculare di questi fatti. Grazie.